C'è un certo giovanotto che piace a Dorothy, anzi lei ha un gran debole per lui, e Dorothy non parlerebbe mai più a quel giovanotto se fa qualcosa che nuoce a me, Lorelai. Quindi io credo che è meglio che questo giovanotto sa che... beh... beh... che Dorothy crede di essere innamorata di lui. Signor Esmond, mi dimetto. Cosa? Abbandona il caso, non mi deve un soldo. Cosa l'hai preso? Ha per tutto la testa? Ma in questo modo mi piace. Giudice, ho cambiato idea. Cosa? Io non ho niente da dire.